Anche il Vittorio Emanuele II ha preso parte alla prima notte nazionale del liceo classico e hanno aderito ben 140 licee in tutta Italia. L'idea è stata lanciata dal professore Rocco Schembra del liceo classico Guglia e Pennisi di Acireale con l'obiettivo di valorizzare gli studi manistici in un momento storico in cui il liceo classico ha subito un calo di interesse e di iscrizioni. Anche il liceo Vittorio Emanuele II così ha aderito all'iniziativa con eventi teatrali e musicali, letture recitate, osservazioni al microscopio e proiezioni di video prodotti dagli alunni stessi.